Tre furti in altrettante abitazioni sono stati messi a segno in contrada a Sagnano di Sala Consilina. I soliti ignoti, tra le 19 e le 21 di ieri, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono intrufolati all'interno delle tre case attraverso le porte d'ingresso e le finestre poste sul retro. Una volta dentro, i ladri hanno messo completamente a soccuadro le abitazioni, asportando dalle stesse denaro in contante oggetti in oro e preziosi. Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 10.000 euro. Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti prontamente i carabinieri della compagna di Sala Consilina, comandata dal tenente Davide Acquaviva. I militari dell'arma hanno avviato le indagini per risalire al volto dei malfattori. La stessa banda di ladri ha attentato anche un altro colpo, all'interno di una quarta abitazione sempre in contrada a Sagnano di Sala Consilina. Nel tentativo di saccheggiare la casa, però, i malviventi sono stati sorpresi dai proprietari, appena rientrati da alcune commissioni. I ladri, accorgendosi dell'arrivo dei proprietari, sono fuggiti nelle campagne circostanti.